Siamo con il tenente colonnello Biagio Loz qui a Miseno alla Guardia di Finanza una giornata dedicata alla pulizia dei fondali Sì, quest'anno siamo alla quarta edizione in chiave archeologica perché appunto la pulizia dei fondali della Rada di Miseno è dedicata proprio alla pulizia delle pile romane Che cosa sono queste pile romane? Sono dei piloni, ovvero dei frangiflutti che servivano a protezione dell'antica flotta imperiale che duemila anni fa stanziava qui a Miseno Stamattina sono intervenute tante associazioni dall'Associazione Bacoli Ambiente con il Crad Selenia unicamente sommorzatore della Guardia di Finanza ma in numerosi tanti altri volontari che stiamo dando un piccolo contributo al nostro mare qua di Capoli Una cosa che vogliamo dire noi dei media che da quando c'è lei qui a Miseno ci sta questa voglia di pulizia, di ecologia e di amore per la propria terra Assolutamente, io dico che è un lavoro di squadra è un lavoro di gruppo, vince il gruppo, vince la sinergia come dicevo prima, tanti sono venuti alla chiamata quindi il merito non è certo del singolo ma è di tutti quanti perché è appunto il mare di tutti